Ed eccoci qua, buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Allora, non ho avuto tempo di switchare la pagina, vi ho già spoilerato uno degli argomenti di oggi, ma non importa perché tanto oggi siamo bullish, ogni argomento è buono, ci sono solo notizie positive, solo tante belle cose. A partire da questo candelozzo verde di bitcoin che ci ha fatto iniziare la settimana, direi alla grande, perché dopo un weekend di ritracciamenti, di dump, di poca convinzione, finalmente insomma si vede un po' di domanda. Ecco, ormai una candela verde non la vedevamo da cos'era, due settimane, a parte quella specie di sgorbio lì a metà del downtrend, questa qui per capirci che però chiamarla candela verde insomma ci vuole anche un po' di coraggio, finalmente la domanda si è fatta sentire, ha detto ci sono anch'io, ricordatevi di me. Cosa positiva perché non so se avete seguito l'analisi che ho fatto oggi su Telegram, ma si è fatta vedere in un momento molto interessante, in un livello chiave, in un approccio verso un livello chiave, approccio molto particolare, perché il livello chiave in questione è questo 51.327, questo precedente low per capirci, che stavamo tenendo d'occhio già da tempo. Venerdì ci eravamo lasciati proprio dicendo che se la candela avesse chiuso in maniera bullish, quindi con preponderanza di shadow, sarebbe stato un segno positivo e quasi un setup long. Di fatto ha chiuso così, sabato e domenica c'è stato follow up di offerta, quindi ancora un po' di callo, ma con volumi praticamente inesistenti, vedete, c'è stato un continuo callo dovuto più che ai sell off, evidentemente dovuto al fatto che l'order book era vuoto. È culminato ieri sera, mi ricordo, perché avevo dato una guardata a Trading View giusto prima di dormire da bravo malato, che l'ultima cosa che faccio prima di chiudere gli occhi la sera è guardare Trading View, non sia mai, e la sorpresa è stata un bagno di sangue, l'avevo guardato ieri pomeriggio e non era malaccio, ieri sera era tipo meno 4%, ha detto vabbè, dormiamoci su, sai cosa, dormiamoci su. E di fatto si è concluso con uno sweep dei low qua sotto, tac, e poi stamattina ci siamo svegliati con questa bellissima sorpresa, quindi sweep dei low giusto per segare qualche altro stop loss di qualche malaugurato trader che l'aveva messo proprio lì sotto all'ultima shadow, segato quello e via che si riparte, vedete, spesso il mergato fa così. Recuperato questo livello, insomma, sembra essere tutto pronto adesso per vedere la domanda fin dove arriva. Però non cantiamo già vittoria, perché oggi già il sentiment è iper bullish ovunque, su qualsiasi canale social, non vedo altro che bull, io compreso, perché di fatto svegliarmi così mi ha fatto piacere, soprattutto perché non ho ancora aperto la copertura short. Qualcuno probabilmente se lo sta chiedendo, vedendo il pump, avrete detto sicuramente che ho aperto la copertura short. Beh, sappiate che non è così, non l'ho ancora aperta e quindi questo pump non è stato causato da me, però scherzi a parte ve l'avevo detto che vedevo un po' la situazione ancora potenzialmente bullish. Di questo però ne parliamo dopo quando andiamo ad approcciare più da vicino, più nel dettaglio, i grafici stessi. Adesso vorrei iniziare con due o tre piccole notizie, piccoli aggiornamenti e le vostre domande. Quindi fatevi trovare sul pezzo perché poi vi leggo e voglio dare assolutamente il ruolo dei protagonisti a voi. Allora, partiamo subito con notizia numero uno, nuove azioni tokenizzate in arrivo su Binance. Tre azioni tokenizzate, MicroStrategy, già da oggi, non so, avrete già visto immagino la notizia. Alle 15, no, l'una e mezza vuol dire sì, 15 e 30 ore italiana. Apple il 28, quindi dopo domani 15 e 30 ore italiana. Microsoft il 30, 15 e 30 ora italiana. Quindi continuano ad arrivare sempre più stocks tokenizzate su Binance che ampliano un po' il parco azioni, ecco, disponibile per i trader interessati anche a questa tipologia di prodotto. Soprattutto MicroStrategy sono sicuro che avrà un grosso successo. Poi, seconda notizia, interessante fino a un certo punto, non lo so, io ve l'ho voluta condividere perché non l'ho neanche condivisa sul Telegram. Trevor Lawrence, che è un giocatore dell'NFL, un giocatore di football abbastanza famoso in America, ha stretto una partnership con Blockfoglio. Blockfoglio è quell'applicazione, non so se avete presente, che è stata acquisita da FTX. In sostanza è tipo un Robin Hood, immaginatevi, per le cripto, dove si può comprare e vendere cripto direttamente dall'app in maniera molto semplice, user friendly e così via. E perché è interessante questa partnership, al di là dei vantaggi che può portare a Blockfoglio e a FTX? Perché di fatto il mondo dello sport sta diventando sempre di più uno sponsor del mondo delle cripto. Io ho notato un po' questo trend, da personaggi appunto degli atleti famosi che si fanno pagare in Bitcoin, queste tipologie di partnership, lo stesso stadio di Miami che ha stato acquisito il diritto di nomenclatura, quindi si chiamerà FTX Arena da parte appunto di FTX, dell'exchange e quindi insomma è una crescita dell'esposizione mediatica del mondo delle cripto. Male non fa. Poi in realtà c'era un'altra notizia che vi avevo condiviso ma non ho tenuto qua aperta ed è quella di JP Morgan che offrirà, forse già da quest'estate, prodotti di investimento su Bitcoin per i suoi clienti. quel famoso Bitcoin fund di cui si millantava già da tempo, la stessa JP Morgan tra l'altro che definiva fino a poco tempo fa Bitcoin senza valore, uno scam, una truffa, non è un asset class, via, peggio, peste e corna, il peggio del peggio. Adesso visto che comunque si è resa conto che l'interesse da parte della clientela di investitori ci ha detto vabbè, sai cosa, io facciamo finta che non ho detto niente, venite, investite in Bitcoin, ve lo permettiamo noi, venite da noi però a farlo e ci pagate le fee, ci pagate le commissioni e quant'altro. Mannaggia queste dannatissime banche, opportunismo allo stato puro, veramente, il peggio del peggio del peggio. Ultima cosa invece più interessante, DeFi, mondo DeFi, in particolare Polygon. Allora, l'ultima volta vi ho detto, sì avevo in mente un progetto che si sta spostando su Polygon, sta andando molto bene ma non mi ricordo quale, ecco, ora me lo sono andato a cercare, vi ho portato un po' di dati, visto che mi chiedete sempre di Matic, il progetto in questione è Ave e non solo, anche Curve si sta spostando in parte su Polygon, SushiSwap si vuole spostare su Polygon, in cui stiamo veramente vedendo, osservando una migrazione, una, migrazione no, perché su Ethereum non è che stanno calando le liquidità, però un, come dire, uno sbarco di liquidità anche su Layer 2 Matic, che non a caso è nel pieno di un trend rialzista veramente pazzesco, è eccezionale Polygon in questo periodo, è una side chain, quindi avevamo parlato magari qualche accenno tecnico dal punto di vista di che cos'è Matic, non è un Layer 2 che si appoggia al Layer 1, come ad esempio fanno le optimistic rollups, ma è una side chain, quindi ha il suo consenso, ha un po' tutto su di esso, è appunto una side chain e non una chain appoggiata di fatto, però per il motivo poi del fatto che adesso c'è il trend delle blockchain alternative, dei Layer 2, di tutte queste opportunità di utilizzare DAP senza dover pagare una quantità industriale di fee, Matic ovviamente non fa eccezione, non solo perché io non sono riuscito a trovarvi il dato ufficiale, però io avevo letto, no forse è proprio qua, no, che Radium su Solana ha mosso una quantità di volumi che lo ha posto in top 15 di tutto il mondo DeFi, quindi BSC, Ethereum e quant'altro, su Solana sta nascendo, ho visto una piattaforma di landing che si chiama, aspettate che ve la trovo perché non mi ricordo più il nome, però avevo iniziato a seguirlo recentemente su Twitter, proprio oggi, quindi mi dovrebbe saltare fuori adesso, è proprio appena nata, però la sto iniziando a seguire perché è interessante, soprattutto il mondo Solana è in un'espansione pazzesca, ma è come non detto, mi sa che l'ho già visto troppo e quindi me l'ha tolto completamente dal feed, ve lo farò sapere molto presto e infine Serum che oggi non so se ci avete fatto caso, ma ha fatto un pump discretamente importante, un più 30% sui USDT, ho visto che ha ottenuto qualcosa come quasi un milione di dollari di proventi dalle fee nel giro delle ultime, mi pare, due settimane, insomma sta facendo numeri pazzeschi anche Serum, questo dimostra che gli ecosistemi sui layer 2, sulle blockchain alternative stanno crescendo, la BSC è inutile che ve lo dica perché non so se avete visto PancakeSwap, Cake, USDT dopo la migrazione e tutto quanto, insomma è un ecosistema che sta esplodendo, quello di PancakeSwap è pazzesco quanto è utilizzato quel DEX e di fatto mostra che la DeFi è sempre un trend dominante che non ha minimamente intenzione di retrocedere, le blockchain alternative sono un trend destinato a durare e a crescere, i layer 2 anche come le blockchain alternative e quindi che dire, vale sempre la pena seguire con interesse tutte le novità in questo settore perché ci sono una caterva di opportunità, ve l'ho detto, io ultimamente sono un po' un Solana maximalist quasi perché tutte le novità di Solana, ci sono degli APY altissimi, sono semplicissime da usare quindi magari faremo anche un tutorialino se vi dovesse interessare, ma anche Pancake adesso mi ci sto avvicinando perché vedo che se ci sbarca SushiSwap ad esempio io sarò il primo a provarlo e ad utilizzarlo, sappiatelo, e io vi terrò sempre aggiornati, sappiate anche questo, su tutte le novità su questi trend e di queste piattaforme. ritorno su BTC che porta fortuna e soprattutto arrivo da voi, eccoci qua, via con le domande, allora vi voglio più carichi che mai, partiamo dall'alto, allora mamma mia, mamma mia, mi va a scatti la chat, talmente siete in tanti, allora vediamo, qua c'era il mio arrivo leggermente in ritardo, tra l'altro vi dico una cosa che a breve, cioè a breve, annuncerò tra poco che d'ora in poi i live saranno tutti alle 17, alle 19 scusate, stavo leggendo e vedevo 7, ma è venuto 17, comunque alle 19 anziché alle 18, perché vedo che siete molti di più e vi viene più comodo, allora sto saltando i primi messaggi, abbiate pazienza, vabbè facciamo così, allora li prendo da qua. Allora, ciao Luca, mia seconda live, grande, ben ritrovato, ma cosa succede a Ethereum con deflazione a luglio? Dovrebbe aumentare il valore di Ethereum o diminuirà? Allora, deflazione in realtà è un termine inadatto, mi rendo conto che non ho utilizzato il termine migliore, volevo dire che a partire da luglio, cioè in teoria a luglio, ci sarà l'IP 1559, che sarà questo famigerato aggiornamento che porterà alla distruzione di parte delle gas fee che vengono pagate su ogni transazione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire, immaginatevi questo, che ogni giorno con i volumi attuali verranno distrutti più Ether in controvalore rispetto al più grande acquisto di Grayscale mai fatto fino ad ora su Bitcoin. Ogni giorno, non aggiungo altro, per questo ho usato il termine deflazione, perché di fatto ci sarà una distruzione continua di Ether e l'offerta verrà eliminata. A questo, se ci aggiungiamo l'incentivo di metterlo in staking, perché poi a fine anno ci sarà il merge, il primo merge con Ethereum 2.0, quindi l'incrocio tra Proof of Stake e Proof of Work per la prima volta, allora questo incentiverà ancora di più la detenzione, il vincolo, il togliere liquidità. Questi, tutti messi insieme, sono la tempesta perfetta per Ethereum e il mercato se ne sta rendendo conto, se ne sta accorgendo. E quindi questo è quello che intendevo per deflazione, cioè noi stiamo guardando Bitcoin, lo abbiamo in mente come riserva di valore perché ha emissione controllata fino ad arrivare a zero. Con Ethereum non ci sarà mai l'hard cap come Bitcoin, a meno che non si inizino a spendere ancora di più in fee, non si sa mai, però immaginatevi che quello che avverrà a luglio avrà un effetto di tre halving messi insieme come rimozione dell'offerta. Cioè, rendetevene conto di cosa vuol dire, abbiamo Ethereum che oltre a essere programmabile, oltre ad avere gli smart contract, la DeFi e tutto, è anche deflazionistico. Poi mi dite come faccio, cioè non so come si fa a non essere un fanboy di Ethereum a sentire queste cose. Basta, non vi voglio convincere, proseguiamo. Per impegnare BNB per partecipare al lancio, al launchpad immagino, basta che li lascio nel portafoglio spot o devo fare una specie di stake cliccando da qualche parte. Hanno lanciato bar, ma non ho visto nessun conto alla rovescia per partecipare. Quando verranno lanciati i nuovi token? Allora, questo mi sa che me lo sono perso. Vediamo se possiamo andarlo a vedere insieme, così ti rispondo in diretta. Andiamo a vedere il nostro launchpad quando mi carica. Tac, tanto vediamo se è un launchpad, non launchpool. Allora, te lo dico subito. Allora, visualizzi i dettagli. Eh, i risultati sono già stati annunciati. Allora, 21, 21, basta. Finito, è finito caro mio. Mi sa che non c'è più verso di partecipare, perché c'era da partecipare il giorno 21. Cioè c'era da detenere i BNB il 14, da partecipare il 21 e poi la distribuzione è avvenuta il 21. Quindi è già belle che è finita, ok? Bisogna mettersi per tempo. Magari la prossima volta ci guardiamo per tempo e lo facciamo insieme. Allora, ciao Luca, sul grafico radio di Bitcoin non ti sembra che ci sia un double bottom che possa invertire il trend verso il rialzo? Inoltre, osservando il grafico mensile di Bitcoin in scala logaritmica, il mercato non sembra troppo esteso. Possiamo considerarla positivamente questa cosa? Grazie. Allora, guarda, sul mercato troppo esteso in scala logaritmica andiamo a vedere subito perché in scala lineare è la definizione di estensione. In scala logaritmica, beh, sì, di fatto è meno esteso che in scala lineare, però dai, non si può dire che non sia esteso. Di fatto è esteso il mercato, dai, diciamo le cose come stanno, porco cane, quando lo guardo a me fa una paura dannatissima, mi spaventa un sacco e mi fa pensare che un ritracciamento è dovuto. Però io ti dico, al momento a me sembra il daily è bullish, ora come ora, sul breve, c'è un setup long in corso. Sull'orario, sull'orario, double bottom, vero, 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 guarda, eccolo, 1 e 1, 2. Questo di fatto è un double bottom con tanto di sweep, vedi, questo è importante lo sweep dal punto di vista del vedere le dinamiche del prezzo perché vedere che andiamo a cercare proprio di sweepare, poi non appena lo facciamo, quindi sweepare per chi non l'avesse capito vuol dire, ve lo metto qua che lo vedete meglio, andare a riprendere, vedete qua c'era il vecchio minimo, qua sotto ci sono una valangata di stop perché magari chi è entrato da queste parti long si è piazzato lo stop lì e allora andare a fare lo sweep significa andare giù a prendere gli stop qua sotto, cioè scendere sotto quel livello lì e poi ripartire invece a rialzo, rimbalzare. Quindi questa è una mossa orchestrata di caccia agli stop in altre parole e denota il fatto che comunque la domanda, cioè chi è andato a prendere quegli stop lì voleva poi usufruirne a suo vantaggio per andare ad aprire a sua volta posizioni long. È un segnale positivo. Sul grafico orario adesso dobbiamo andare ad approcciare questa zona che è la prima zona con un po' di volumi consistenti, 56.000 dintorni, vediamo un po' come faremo. Però per il momento, ve l'ho detto, la situazione non è affatto cattiva, malvagia. Adesso dobbiamo andare a cercare line e parliamo dopo, c'è un po' di cose da dire sui grafici. Allora, come niente copertura short e allora si torna giù a 40? No, no dai, fatemela aprire prima. Ciao Luke, vorrei fare dei portafogli cripto per i miei figli al posto del libretto di risparmio. Che bello sentire queste cose. Mi piacerebbe aprire due account diversi su BlockFi, Celsius o Nexo, per sfruttare anche la rendita passiva. Mi è però impossibile aprire più account su mio nome. Cosa faccio? Eh, è vero, perché di fatto tu hai un account intestato a te e basta. Quindi io li tieni comunque a tuo nome, poi quando sarà ora glieli cederai in eredità. Altrimenti purtroppo non vedo tanta scelta. Non so se magari hai la moglie, un parente stretto, non lo so, un figlio maggiorenne, qualcuno che può intestarsene uno. Altrimenti non saprei, potresti tenerteli sul tuo e poi sapere comunque qual è la quota di ciascuno e poi decidere dopo. Ecco, inizia la live e si sale, mi piace, anche a me piace. Ciao Luca, se avessi vent'anni come ti muoveresti per iniziare una carriera nel mondo delle cripto? Che domande? Non lo so, guarda, ci sono tanti lavori che puoi trovare. Se tu vai, ci sono dei siti, aspetta che te ne linko uno. Porco cane, non me lo ricordo più era. Crypto, Crypto Jobs. Crypto Jobs, non mi ricordo, no non era questo, neanche questo qua, ecco, Crypto Currency Jobs, questo qui, mi ricordo che ce n'era un sacco, guarda, io te lo linko se ti interessa. Tac. E poi, ce n'è anche tanti altri, comunque, anche semplicemente se tu scrivi alle realtà con cui ti potrebbe interessare lavorare, già dimostri comunque interesse. Al momento è un mercato che è ancora una nicchia e secondo me c'è veramente tanto spazio per chi ha voglia di fare per iniziare a lavorare in questo settore. Quindi, davvero, io ti incentivo a provarci, a cercare tu di contattare loro, muoviti in questa direzione, vedrai che qualcosa trovi, perché vedere qualcuno interessato comunque a questo settore è sicuramente un plus, una cosa positiva per chi sta cercando. Ciao Luca, ma per te questo l'abbiamo già letta, che cosa ne pensi di Chilitz? Avresti voglia di fare una breve analisi fondamentale? Allora, guarda, non conosco benissimo Chilitz lato fondamentali, né la tokenomics né niente del genere, purtroppo, mea culpa questo. Però, se vuoi, possiamo andare a fare un po' di analisi del grafico. Cosa ne dici? Ci accontentiamo? Analisi del grafico che non è proprio bellissimissima, perché, insomma, anche questa sorta di doppio massimo non è che mi sia piaciuto molto, eh? Con tanto di respinta. Al momento, tra l'altro, aspetta, facciamo una cosa, aggiorniamo i livelli. Quindi, perché l'analisi del grafico faccio meno fatica a fartela in diretta, l'analisi fondamentale faccio più fatica perché non conosco alcuni dati, come appunto la supply, le tokenomics, se vengono bruciate in un modo o in un altro. Quindi, ti darai delle informazioni non tanto corrette, mentre il grafico, alla fine, quello che è, lo si vede. Quindi, abbiamo un bel range, questa area di domanda, la spostiamo qua sotto, tac, perché di fatto ora siamo così. Abbiamo un range middle a 915, un range low a 770 e un range high a 1107, questi tre livelli. Al momento, abbiamo grattato ancora un po' dal range low, vediamo un po' come ci comportiamo col middle. Se lo riprendiamo, si potrebbe andarsi a dirigere qui, però, purtroppo, sopra il range high c'è un bel po' di offerta. Cioè, guardate che pull grosso, babam, babam, così. Quindi, non lo so, eh, c'è di molto, molto, molto meglio. Vediamo, vediamo come, soprattutto per l'iperestensione che ha. È simile a BNB, sotto un certo punto di vista, però, questo top, così, con due attacchi a punta, non lo so, mi lascia un po' di amaro in bocca, ecco, questo è quello che penso. Allora, le Eikinashi settimanali rimangono rosse e sono già due. Andiamo a vedere. Effettivamente è presto per cantare vittoria, cioè, veramente, non ha senso adesso già essere bullish. Il settimanale, effettivamente, beh, siamo all'inizio della settimana, però denota per ora un breakdown. Ve lo faccio vedere, facciamo su un grafico più pulito. Cosa ne dite, visto che qua ho già segnato tutto per il giornaliero. Bello, eh, questo? Tac, facciamo così. Allora, il settimanale, vedete, vi ricordate che avevamo questo range di riferimento su Bitcoin? Ecco, abbiamo fatto un breakdown e adesso c'è da vedere se è un falso breakdown, il che sarebbe bene. Però, se al contrario, l'offerta, adesso, prima o poi si ripresenterà, adesso è il turno della domanda. Sapete, no, il discorso che vi avevo fatto anche su Twitter. Ci sono le fasi del mercato. La fase di domanda, la fase di offerta. È ciclico, no? Al momento era tutto in mano all'offerta. Prima o poi arriverà la domanda, dicevamo. Non è che dumpa per sempre, quindi non ha senso vendere durante le fasi apicali del dump. Perché va a finire che si fa il tipico sell low motivo per cui io di solito suggerisco. Meglio fare un attimino di respiro, un attimo di pausa, stop, vedere come si assesta il mercato, che struttura si forma e prendere decisioni. Tanto vedete bene che di dump che ti arriva a zero in un giorno è difficile che accada. E se la nostra operatività era speculativa, ci conviene avere già lo stop loss pronto ed evitare di esporci a tale perdita. Se invece stiamo seguendo una struttura o un setup di investimento, frega niente, ok? Di tutto ciò. Però, questo per dire che, come potete vedere, il settimanale è ancora tutto da definire. Le Eikinashi, andiamole a vedere. Dunque, due rosse, è vero, sono ancora rosse. E vediamo, vediamo un po', perché di fatto può essere una correzione fisiologica. Non vuol dire che se c'è l'Eikinashi rossa allora dobbiamo invertire il trend. Guardate qua, ad esempio, tutte queste Eikinashi rosse sono in fase correttiva, prima di un rialzo. Quindi stiamo a vedere. È tutto da vedere. Prendere, dare per scontato che accade qualcosa prima di avere sufficienti prove, sicuramente è male. Meglio ora fotografare la situazione attuale, che c'è un barlume di speranza, perché la domanda ha reagito bene. Vedere adesso dove troviamo l'AI, come ci andiamo a sistemare, come si assesta la struttura. E da lì poi potremo avere qualche dato in più per capire se questo colpo di reni di domanda verrà assorbito e mangiato. E allora siamo messi peggio di prima. Oppure se questo colpo di reni di domanda darà inizio a una struttura un po' più bella, come l'andare adesso a trovare l'AI. Poi magari fare un AIR low. E poi vedete che è un attimo che si forma il costrutto di bottom. Visto che il macro è ancora bullish, io mi gaso. Basta. Allora, andiamo avanti con le domande. Dove siete, dove siete? Eccovi qua. Allora. Dunque. Sai qualcosa di Venus su Autofarm? Sono spariti tutti i Volt? Eh sì, era successo qualcosa? Vi ricordate cos'era? Un paio di live fan ne avevamo parlato. Perché c'era stato un problemino con l'aggiornamento di Venus, che aveva introdotto un ulteriore fee e creava problemi a chi farmava su Autofarm. Attenzione. Luke, ma anche oggi ci saranno codici per PrimeXBT? Sì, l'altra volta sono stati polverizzati. Non oggi. Ma, ma, ma. O mercoledì o venerdì. Devo ancora decidere. Io ce li ho lì. Ce ne ho tre. E non ho paura di usarli. No. Ve li condividerò o mercoledì o venerdì. Ora ci penso. Vediamo. Quindi vi voglio sul pezzo. Luca, ma per vendita di copertura intendi un take profit o una vendita sui futures? Grazie. Io intendo una vendita sui futures perché io agisco così. Nel senso, io ho la posizione spot, quindi vado short sul future per coprirla. Ma, di fatto, l'operatività è come se fosse un take profit. Non cambia nulla. Cosa ne pensi del grafico Ethereum Bitcoin in relazione al futuro di entrambi? Sembra che Ethereum debba volare. Ma questo significa che Bitcoin rimarrà comunque in affanno? Allora, guarda, Bitcoin è Bitcoin. Quindi io consiglio sempre di seguirlo da sé, così. Ethereum Bitcoin è utile per seguire Ethereum, al contrario. Ethereum Bitcoin, direi che è molto, molto bullish. Ma ne parliamo dopo perché sapete che Bitcoin ed Ethereum fanno parte della parte finale di questo, dei nostri live. Altrimenti voi scappate tutti prima quando faccio la differita su YouTube e non se li fila nessuno. Allora li facciamo alla fine. No, per dare più continuità, scherzi a parte al discorso. Che pareri hai sull'indicatore Ichimoku Cloud in ambito crypto? Grazie. Allora, positivi perché comunque è un ottimo indicatore. Riconosco persone che lo usano, ma io personalmente non ti so dire di più perché non l'ho mai utilizzato più di tanto e quindi non ho l'esperienza per valutarlo. Ecco, ti dico la verità. Io non sono un tipo di indicatori. Allora, un K oggi su Bitcoin per il lungo termine. Pochi, almeno per iniziare, per poi proseguire con un piano di accumulo. Guarda, non esiste il pochi, tanti, non fatevi queste pare. L'importante è avere una strategia. Non il quanto. Non pensate che ci vuole un capitale minimo, se non metto 10.000 non farò mai niente. No, non dovete vederlo come la slot machine, che mettete il capitale e vi si moltiplicano. È un investimento, quindi sul lungo termine è un bene che per voi deve aumentare di valore. Questo deve essere Bitcoin, non la scommessa per fare il jackpot al momento. Mi raccomando, è importante. Hai visto che poco fa quella gnocca di Emily Ratajkowski ha pubblicato su Instagram un suo NFT? Ma va, pure lei, ci mancava. Su cosa bisogna investire per esporsi maggiormente al mondo NFT? Ci mancava giusto lei, ormai è. Ma l'NFT, che io sappia adesso, ha visto che è un po' in contrazione il mondo NFT. E c'era un indice, aspetta che te lo trovo, andiamo su CoinGecko, CoinGecko, eccolo. Cos'è sto frutto qua? Non lo so, lasciamo stare, volevo cercare CoinGecko NFT X. Eccolo qua, dovrebbe essere questo, che crea degli indici sugli NFT, se non erro. Allora, fammi un attimo fare mente locale, nftx.org. Allora, qua, non so bene come funziona, perché ragazzi, io nel mondo NFT non ci sono mai entrato più di tanto. Però sapevo, ne avevo parlato con una persona che è più schillata di me sugli NFT, e mi aveva parlato di questo. Io invece uno che conosco, guardate, ve lo dico subito, su IndexCoop, che è dove ci sono gli ETF tokenizzati, in pratica. C'è quello sulla DeFi che io possiedo. Hanno recentemente aggiunto il Metaverse Index, che è questo. Che di fatto si espone ai progetti nel mondo, appunto, Metaverso, NFT Gaming, eccetera, eccetera, eccetera. Sono questi 15, non è completissimo, mi sa, perché manca qualcosa. Però ad esempio NFTX come sottostante ha i CryptoPunk, cioè ha gli NFT stessi, quindi è diverso. Ti lascio questi due spunti, magari approfondisci tu se ti va, perché io non è che sono la persona più giusta a cui chiedere di queste cose. Allora, dove siamo finiti? Ciao Marco. Io non sono Marco, mi hai scambiato per qualcun altro. Una curiosità, come mai nel mio grafico TradingView a parità di timeframe graficamente è tutto più compresso, e le stesse candele sono più corte rispetto a quelle che analizzi tu? Non lo so, no, non dipende dall'abbonamento, il grafico dovrebbe essere sempre identico. Le candele sono più strette, non so se è una questione di risoluzione. Cioè, considera che tu qui puoi andare a ridimensionare l'asse, se fai doppio clic ti fa il ridimensionamento automatico. Non saprei cosa potrebbe essere. Luke, leggiti questa fortuna del principiante. Attenzione, vediamo, qua sento odore di shitcoin già da qui. Ieri sera ho aperto una posizione long da 200 euro a leva 20 per, com'i pazzi. Proprio ieri sera torno ai 48... Ah, niente shitcoin, bene. Perché sentivo che era un falso breakdown. Solo che non ho messo lo stop loss e take profit e mi sono addormentato. Morale, per poco non sono stato liquidato e mi sono risvegliato alle 6 di mattina col 200% di profitto. Che culo spudorato. Ammetto di non aver avuto praticamente meriti, ma che risveglio. Fantastico, io sono stra contento per te. E di fatto, tu scherzi, ma quello è un setup. Cioè non so se seguite un po' la mia operatività sull'intraday, ma il setup sullo sweep io lo uso spesso sull'intraday. Quindi quando c'è un trend bullish, tendenzialmente, andare a cercare gli sweep dei low non è mai una cattiva idea. Perché è un gran bel setup. Rischio rendimento spaziale. Perché tu vai a cercare lo sweep, rischio miss molto alto, soprattutto su un time frame del genere come il daily. Però, ripeto, hai un rischio miss molto alto, un rischio stop loss altrettanto alto. Perché dove lo metti lo stop loss? Tu hai detto, io non l'ho messo e hai rischiato la liquidazione. Ma altrimenti dove lo metteresti? Qui sotto? Cioè così ti vai a rovinare un po' il rischio rendimento. In ogni caso, tutto questo per dire che negli alcuni errori che hai fatto, tipo non metterlo stop loss, però tu hai detto il mio stop loss è la liquidazione, alla peggio ci ho buttato 200 euro quello che è. Il setup è sensato. Perché il setup di andare a prendere lo sweep, sappi che è un setup che ha completamente senso. Ok? Bene, poi. Dunque, dunque, dunque. Ciao Lucone, hai finito di tirar su della ghisa? Sì, ho finito. Dammi un'occhiata a GRT e Luna. Mamma mia Luna, che numeri, eh. GRT, andiamo a vedere. GRT, BTC. Allora, GRT non benissimo, non benissimo. No, 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 neanche un po'. Purtroppo, se ho un po' spento l'hype, mi pare. Questo è diventato una resistenza. Ha flippato a resistenza. E purtroppo, adesso abbiamo fatto un lower low, che c'è da vedere come si va a configurare. Cioè, se diventa un range. Se adesso andiamo qui, diventa un range. Se invece fa così, diventa un downtrend. Ma, in ogni caso, non mi piace, sai. Volumi pressoché nulli. Non mi sembra un granché. Luna. Luna, Luna. Guardate che roba. Che roba pazzesca, Luna. Allora, abbiamo un cluster di supporto qua. Ok, tac. Poi, cos'altro abbiamo di bello? Il top, ovviamente, qua su. Poi abbiamo, vabbè, il top attuale. Quindi, un pool di offerta, al momento, esattamente qui. Tra la shadow e la resistenza. Stiamo un po' flettendo. E poi, abbiamo anche, volendo, questo livello. Adesso è un po' tutto fresco, quindi dobbiamo vedere. Io azzarderei quasi dire che qua sotto ci potrebbe essere un pool di domanda. E potrebbe quasi essere un entry. Cioè, una roba aggressivissima. Perché, guardate che com'è. Cioè, entry. E poi lo stop loss. È già, cioè, teoricamente è già stop loss se andiamo a chiudere qua sotto delle candele. Quindi è veramente un entry aggressivo ai massimali. Quindi, altrimenti, ne abbiamo un altro, vabbè, a parte qua sul cluster stesso e sotto. Quindi, se andiamo a fare un range di questo tipo, questa è la nostra manna. Il nostro entry definitivo. Ma, visto che comunque adesso è presto, potrebbe accadere così, potrebbe accadere così. Abbiamo questo pool di domanda che abbiamo visto. E poi, abbiamo questo. Così. E così. Che anche lui è un pool di domande intermedio. Ancora un po' tutto da scoprire, la price action qua dentro di Luna. Però, per il momento, il livello più solido, più interessante, mi sembra questo qua. 30.000, 31.000 SAT. Ok? Cosa ne dite? E questo è. Quindi c'è da vedere un po' come si mette il tutto in un macro che, wow, è veramente galattico spaziale. E' pazzesco. Luna... E secondo me vale la pena approfondire, Luna. Me l'avete chiesto il progetto Terra, Mirror Protocol, Anchor Protocol. Cioè, ci sta nascendo tanta roba anche lì. È una blockchain che merita, merita, merita un approfondimento. Abbiamo parlato di Solana. È un po' scorretto non parlare di Terra. Ciao, cosa ne pensi di VET? Ma VET, adesso il grafico possiamo andarlo a vedere. Lato fondamentali, penso cose positive. Alla fine è una blockchain che ha sicuramente il suo perché. Grafico, ecco, abbiamo un'inversione di struttura, purtroppo. Dopo questa estensione abbiamo avuto la prima inversione. Quindi adesso mi aspetto un attimino di stabilizzazione, ritracciamento. Vediamo un po' dove andiamo a finire. Perché se stabilizza, vabbè, facile. Vediamo come lateralizza. Cosa ho fatto? Ok, niente. Vediamo come lateralizza e andiamo a identificare i livelli chiave. Se continuo a ritracciare, di livelli chiave non se ne vedono. Sulle 4 ore se ne vede uno qua giù a 300 SAT. 4 ore, ripeto, aspetta. Facciamo che lo segniamo. Perché poi tanto anche VET me lo chiedete spesso. Quindi vale la pena segnarcelo. E ci scriviamo range 4 ore. Così rimane. Tac. E me lo salvo. Eccolo. Stiamo a vedere. Stiamo a vedere come si muove. Adesso qua, se continuo a ritracciare, a far nuovi minimi, allora teniamo d'occhio questo range. Per andare a scovare dei movimenti di domanda. Dei focolai di domanda. Come ad esempio quello di oggi su Bitcoin. Vedere un movimento del genere potrebbe invogliare a un long. Soprattutto se questo movimento origina su uno di questi livelli chiave. Poi, per quanto riguarda la seconda parte della tua domanda. Secondo me non mi conosci. No, scherzo. Non voglio sembrare antipatico. Però la domanda è, secondo te Cardano potrà davvero competere con Ethereum? Guarda, io ti dico, competere in modo sano? Sicuramente sì. Io mi auguro che competa con Ethereum. Così come lo stanno facendo tutte le altre blockchain alternative. Che poi, per me, non è una competizione, ma è una sinergia. A me piace chiamarla sinergia. Infatti, quando vedo le guerre, cioè chi promuove la sua blockchain come Ethereum killer, per me è già da prendere e buttare nella spazzatura proprio. E quindi la narrativa, la retorica dell'Ethereum killer è veramente la cosa che mi dà più sui nervi che esista al mondo. Ma non perché tutte le altre blockchain sono spazzatura. Perché io adesso sono un mega fan di Solana, mega fan di Polygonmatic, mega fan di Terra. Cioè, non è che c'è solo Ethereum. Io stesso ho intenzione, ve lo dico da un po', di investire in blockchain alternative. una parte del mio portafoglio, come sto facendo con la DeFi. E quindi non sono assolutamente massimalista di Ethereum, che anche il massimalismo è una cosa insensata. Però, ripeto, lasciamo stare la retorica dell'Ethereum killer, che è il peggio del peggio del peggio. E Cardano, vabbè, cioè, io ho pubblicato su Twitter in maniera provocatoria stamattina. No, era ieri, forse. Non mi ricordo. Fatto sta che, tanto seguitemi su Twitter, vi fate due risate con le perle che condivido. Shit post un po' come si deve. Ecco, Solana, con il suo ecosistema che ormai dovreste conoscere. C'è Radium, c'è Mango Markets col margin trading. C'è Serum che muove volumi pazzeschi. C'è Bonfida, ci sono mille e mila UI di Serum. C'è veramente di tutto, anche in crescita si sta sviluppando qualsiasi cosa. Se triplicasse di valore, cioè 3x di capitalizzazione, sarebbe ancora meno di Cardano. Tuttora meno di Cardano, che non ha neanche gli smart contract. Non aggiungo altro sulla valutazione di Cardano. Ecco, ultimamente non ho più fatto l'Eater, però ogni tanto non posso fare a meno di notare queste cose, che sono veramente ingiustificabili. Allora, continuiamo con le domande. A quanto siamo? 40 minuti. Ottimo. Siamo esattamente nei tempi. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. Cosa ne pensi di Belt Finance? Sai che non l'ho ancora approfondito a dovere? Non l'ho assolutamente approfondito. Vorrei mettere in staking BTCB su Autofarm, sul volt appunto di Belt, ma non so come farlo. Devo andare prima su Belt? No, in realtà no, Autofarm ha proprio la comodità che fai tutto direttamente da lì. Seguilo è Autofarm perché ultimamente ha fatto qualche scherzetto che ho visto che la liquidità infatti è calata. Non si è comportato benissimo con l'update di Venus, quindi meglio seguirlo bene. Cosa ne pensi del token EPS? Su Ellipsis gli APY sono elevati, ma il token è in trend discendente. Riesci a fare un po' di luce? Allora, EPS BTC. Allora, non conosco ancora bene le tokenomics di EPS, però considera che il mercato lo deve ancora apprezzare. Cioè, è ancora, sai qual è il problema secondo me di questi token in generale? Che al momento l'hai detto, cioè su Ellipsis, gli APY sono molto alti. Quindi, cosa ti aspetti? Che le persone vanno... 23% si sono dimezzati rispetto a un po' di tempo fa. Le persone vanno qui per farmare, farmano ai massimi e poi dampano. Ok? Questo è quello che tendenzialmente si fa nella fase iniziale. Se andate a vedere Curve, CRV BTC, che è la sua sorella maggiore su Ethereum, non è diverso, guardate. Anzi, cioè, guardate che roba, allucinante. Guardate, tac. Hop, hop, e via. Fino a che non ha trovato il suo fair price e poi ha potuto, insomma, stabilizzarsi più o meno. Questo è il problema che io chiamo delle coin dampabili. Motivo per cui c'è da fare sempre tanta analisi fondamentale sulla domanda e l'offerta, no? Quello di cui parlavamo nel video sull'analisi fondamentale. Cioè, in questi casi, noi abbiamo, in una fase iniziale soprattutto, in cui c'è l'incentivo di utilizzare la piattaforma, una notevole emissione. Poi è vero che c'è il discorso del vesting, l'incentivo a detenerli per tot tempo, per almeno tre mesi. Però, di fatto, il problema è che è un token che la gente vuole farmare e quindi, di conseguenza, punta spesso e volentieri a damparlo, proprio per andare a realizzare un profitto dato da un APY molto alto. Quindi c'è da superare un po' questa fase di price discovery, dovuta al fatto che si deve trovare il fair price anche di questo. Una volta trovato, si avranno delle idee più concrete del reale APY che la piattaforma può dare e del reale valore che il token EPS potrebbe avere. Per il momento è in downtrend perenne, quindi non viene certo voglia di holdarlo. Questo è poco ma sicuro. Poi, 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 allora... Farai un video sulla migrazione di Pancake, ma dai, è facile. C'era l'infografica su Twitter. Ti consiglio di andare su Twitter nel profilo di Pancake Swap, ovviamente, oppure dagli amici di Pancake Swap Italia, il gruppo Telegram, che magari vi linko anche, guardate, ve lo linko qua. È un gruppo con 5.000 persone, ci sono gli admin estremamente disponibili. Tra l'altro sono, insomma, è un gruppo anche molto piacevole. Io ve lo condivido volentieri. Potete fare tutte le domande che volete a riguardo. Allora, passeresti da Sol a Seco? Bella domanda anche questa. Per chi non lo sapesse, Seco è, ve lo faccio vedere, su FTX. Allora, ci arriviamo. Seco. Eccolo qua. Sta per Solana Ecosystem Pool Token, che non so cosa c'entra Seco. Ah no, Serum Ecosystem Pool Token, sarà Serum Ecosystem, non lo so. Vabbè, fatto sta che è come se fosse un ETF sul mondo Solana. Cioè Solana, Serum, MAPS, Liquid, Bonfida, Radium e Oxygen. Quindi c'è un po' tutto. La risposta è, dipende da che cosa ti interessa. Cioè, ti interessa detenere solo Solana? Oppure ti interessa avere un po' tutto questo mondo qua? Sta a te. Cioè, sono due cose diverse. Quindi, è una scelta che dipende da quello. Non sono, non è la stessa cosa. Cioè, è come dire, vuoi acquistare Apple o l'SP500? Ovviamente con il dovuto... Passatemi la metafora, ecco. Però il senso è quello. Allora, sento parlare di Polkadot, Cardano, Solana e Cosmos come Ethereum Killer. Basta! Pareri su differenze di progetto, costi, fise, giudizio generale. Allora, sono tutti ottimi, a mio parere. Quello che mi piace meno è Cardano. Lo sapete, non lo nascondo. Però, Polkadot ha un ecosistema in crescita esponenziale. Solana, pure. Cosmos è un po' l'insilente, però fatto sta che il framework di Cosmos è un po' quello più utilizzato dalle chain interoperabili. Quindi, i suoi meriti ce li ha. Io ti dico, sono tutti ottimi. Non è che... Non bisogna far sì che uno escluda l'altro. Cioè, potrebbe valere la pena... Io cosa ho detto? Io voglio investire nelle blockchain alternative, ma non tirare via da Ethereum. Perché è un settore in crescita. C'è spazio per tutto. E quindi sono equival... Equivalu... Sì, come si dice. Ugualmente valide. Ecco. E quindi, non ho uno o l'altro, ma tutte insieme. Allora. Sentivo che tu non consideri bene lo staking di Ethereum su Binance. Sei ancora della stessa idea. Grazie. Ma non è che non lo considero bene, in realtà, lo staking di Ethereum. Però, forse ci sono metodi migliori utilizzando la DeFi. Ad esempio, si può mettere a collaterale gli Ether per prendere in prestito DAI. E poi utilizzare DAI come liquidità da dare altrove. E mi pare che Yearn lo faccia in maniera automatica, tutto ciò. Con un APY che non mi ricordo più di quant'è, però. Però stiamo parlando di DeFi su Ethereum. E lo so che vi potrebbe spaventare. Allora. Ecco. Su Curve, ad esempio, si arriva anche al 12%. Ma c'era anche quella più semplice. Impazzito. Niente. Allora. Io volevo... Volevo andarvelo a cercare... No, c'era, l'avevo visto. Eccolo. Ether 5,26% netto. Quindi, ma siamo lì, però non c'è il vincolo di aspettare Ethereum 2.0. Questo Volt mi pare che sia quello che utilizza appunto il... Come si chiama? Maker DAO per andare a collateralizzare Ether, prendere DAI e dare in prestito DAI. Non mi ricordo dove, però il senso è un po' quello. Altrimenti, su Curve, fatemi vedere se c'è il pool. Stai lì, stai buono. Dove sei? Dove sei? Si, ho il pools. Ci arriviamo, eh. Abbiate un attimino di pazienza. Mi spiace per questi piccoli tempi morti. Questo 3,90 qua... Sì, non è che sia un granché di ricompensa. Poi c'è questo qui di Ancre. Sì, questo è già un pelino più interessante, però c'è poco volume. Quanta liquidità c'è, per curiosità? Sto pensando a voce alta, eh. Non spaventatevi. Dunque, dunque, dunque. 15 milioni, non tantissime. Però sono tutte possibilità su Ethereum. Dunque, Ellipsis non c'era ancora. Stavo pensando su BSC, se c'è qualcosa per Ethereum. C'era Autofarm, ma adesso non c'è più. Pancake Bunny. Pancake Bunny, secondo me, qualcosina su Ethereum c'era, eh. Fatemi un po' vedere. Ethereum... Ethereum BNB, il pool su Pancake Swap. Se no c'è questo. Eh, 18,11%. Cosa usa Venus? Usa Venus. Però, a differenza di Autofarm, non ha fatto la maialata di andare a... Eh, a non aggiornarsi con l'aggiornamento di Venus. Quindi, al momento, direi che Pancake Bunny è quello più interessante da utilizzare. Ecco qua la risposta. Bene, ci siamo arrivati. Vi ho fatti scappare tutti nel frattempo. Vi ho annoiati a morte. Spero di no. Allora. Dunque. Ciao Luca, novità sul rimborso di Autofarm per i fondi depositati su Venus? Venus, guarda, non lo so, non ho seguito tanto, perché io fortunatamente sono riuscito a scamparla. Ti consiglio di seguire, anche io avevo un po' di Ether depositati, e Ether per fortuna è stato il pool che è arrivato un po' in ritardo come penalizzazione. Ti discorso... Eh sì, ciao. Ti consiglio di seguire, non ce la posso fare oggi. Ti consiglio di seguire il loro profilo ufficiale, perché so che insieme a Venus stanno pianificando un rimborso e lo faranno. Come alternativa, Pancake Bunny o Beefy Finance, sono le due alternative, insomma, ad Autofarm. Sushi ha già sbarcato su Matic, ma ho visto che però non c'era ancora molto, vero? Cioè, era ancora una fase, una sorta di test, o erro? Perché io avevo visto stamattina che lo stava facendo, però non dovrebbe averlo ancora fatto al 100%. Allora, fatemi vedere, ci guardo dopo, dai, se no vi faccio veramente addormentare. Però, no, avevo visto qualcosa, avevo visto qualcosa qua sotto? No, scherzo. Mi sembrava di aver letto Matic da qualche parte. No, niente. Ci vado a vedere, poi ci aggiorniamo. Però è sicuramente interessante poi utilizzarlo lì. Allora, dove siamo? Avendo 120.000 da investire su Exchange, c'è Fai, DeFi. Suggerimento numero uno, mai dire a nessuno quanti fondi vuoi investire o quanti fondi hai. Perché, insomma, la privacy è importante. Suddivisi in blocchi da 20-30. Facciamo finta che questa è una somma ipotetica, ok? Per piattaforma, volendo ottenere un interesse annuo del 14%, faresti una classifica di piattaforme strumenti a rischio medio-basso su cui ci si potrebbe dirigere, escludendo trading azionistico e long in BTC e BNB? Ho visto il tuo video, ma... Ok, ma guarda, fondamentalmente io suddividerei tra Cefai e DeFi. DeFi è utilizzare quelle piattaforma, tu hai detto basso rischio e non ti vuoi esporre, quindi i pool di stablecoin. C'è Ellipsis, c'è Curve, con un capitale comunque medio-alto puoi utilizzare anche Curve su Ethereum, oppure anche su Matic, adesso si arriverà. E poi che altro? Beh, la DeFi su BSC c'è qualcosa anche lì sulle stable, ad esempio su Pancake Bunny e su Pancake Swap ci sono le pool di stablecoin. Le pool di stablecoin su Pancake Swap danno un pelino meno, mi pare, però è sempre interessante e quindi sono sempre quelle alla fine. Di novità, su Solana non c'è ancora molto su stablecoin, quindi c'è sempre da orientarsi tra BSC e Ethereum, e adesso su Matic arrivano i progetti di Ethereum e quindi bene o male sono sempre quelli. Allora, dunque, io adesso direi che possiamo andare a dare un'occhiatina ai grafici, così poi torno per le vostre ultimissime domande. Quanta percentuale sui Bitcoin posso destinare a Cefai e DeFi? Dipende da te, dipende assolutamente da te, è una scelta. Secondo te mettere Fiat su Nexo o comunque usarlo in modo serio per tenere i propri risparmi è una cosa sensata? Sembra sicuro ma vorrei una tua opinione. Guarda, di sicuro non c'è nulla, considera che c'è sempre un rischio annesso, non c'è assicurazione sui prestiti, quindi considera che c'è un rischio. Quindi io fossi in te a espormi all'in su Nexo non me la sentirei, detto in maniera completamente sincera. Dunque, va bene, poi vi continuo a leggere dopo, ci sono un sacco di domande, va bene, mi fa molto piacere. Andiamo a vedere al volo i grafici, quindi Bitcoin dollaro e Ethereum Bitcoin in particolare, ma poi anche altri se volete, anzi vi faccio vedere anche la capitalizzazione totale, che è molto molto curiosa e vedrete anche il perché. E poi anche la dominance per vedere un po' lo stato di questa alt season galoppante. Allora, Bitcoin, guardate, io vi ho già lasciato scritto qua sotto quello che ci siamo detti poco fa, ovvero l'andamento, Stellar no, grazie, Stellar anche no, l'andamento di, cioè la price action in prossimità di questo low appena fatto. Abbiamo avuto, allora, l'attacco al low, il primo attacco qua nella candela delle liquidazioni di massa, come abbiamo visto, poi un po' di lateralità, di nuovo, dump, dump, due candele piene con volumi, quindi questo è il movimento reale, questo, tac, siamo arrivati di nuovo ad approcciare il low, e poi giorno dopo, tac, ok, vedete, questo è l'altro movimento, l'apice del movimento reale, massimi volumi, con shadow molto lunga, e in chiusura assorbimento, quindi questa di fatto è una candela bullish, sapete perché? Perché c'è la shadow lunga che mostra che, sì, abbiamo dumpato, ma la domanda si è subito fatta valere, ha assorbito parte di quel dump, quindi la chiusura qui è stata bullish. I giorni dopo a seguire, sabato e domenica, sono stati giorni ancora all'insegna dell'offerta, ma sabato offerta con shadow che ha assorbito, domenica abbiamo avuto, ripeto, lo sweep come abbiamo visto prima, e poi assorbimento, e chiusura, ok, chiusura in lower low teoricamente, sia sabato che domenica è stato lower low, quindi qua uno poteva dire, sì, ok, è ufficiale in lower low, però, a parte che il weekend sappiamo bene che ci si può fidare fino a un certo punto, ma dopo una candela di questo tipo, e comunque lo scarso follow up dell'offerta, e insomma, era, non lo so, c'era un retrogusto bullish, soprattutto vedendo che le altcoin nel frattempo pompavano, cioè altcoin bitcoin era in uptrend, e io, cioè, pensavo, caspita, abbiamo da un lato, comunque il macro è estremamente bullish, abbiamo un possibile range informazione, sì, l'abbiamo rotto a ribasso, ma siamo comunque nella zona di liquidità, perché dopo la candela di fail o swing, abbiamo creato un pool di liquidità in domanda qua sotto, e quindi, non lo so, il dump è poco convinto, le altcoin continuano ad assorbire capitale, non lo so, non è il classico quadro da dump questo, e quindi, io non me la sentivo di mettermi in bias ribassista, e di andarmi a fiondare sullo short di copertura, e tant'è che oggi abbiamo avuto il primo, la prima reazione da parte della domanda, perché di fatto, ripeto, a parte questa candelina, abbiamo avuto solo il movimento ribassista, quindi adesso è importantissimo vedere dove finisce la reazione della domanda, cioè, ok, oggi abbiamo l'impulso di domanda, ha dato il colpo di reni, ha fatto il low reclaim, i 51.300 li abbiamo recuperati, e adesso vediamo, dove facciamo l'AI? Potrebbe essere da queste parti, questa è un po' la prima area, come potete vedere, di liquidità, che potrebbe arrestare lo spike di domanda. ovviamente dobbiamo anche vedere la candela di oggi, come chiuderà, nel senso, se chiude adesso, torna giù, e chiude a metà ancora con la shadow, allora fa capire che anche l'offerta, non è che abbia molto intenzione di farle spazio, in particolare, se chiudiamo qua sotto, è bearish, purtroppo, quindi, lo scenario bearish, sarebbe chiusura qui sotto, già oggi, oppure, rientro qui sotto domani, sono pressoché la stessa cosa, quindi questo è lo scenario bearish, mentre se chiudiamo con una candela bella piena, magari abbiamo follow up di domanda anche domani, oppure chiudiamo ancora meglio con una candela ancora più alta, allora lasciamo sfogare la domanda, vediamo, chiudiamo qui, vediamo domani come si pone, c'è ancora domanda, bene, vediamo ancora dopo domani, e così via, e vediamo dove andiamo a fare l'ai, in altre parole, potrebbe essere in zona range middle, quindi da queste parti, 56.000 dintorni, in zona range high, ancora meglio, perché ufficializziamo un po' la lateralizzazione, e non altera questo il quadro generale, oppure potrebbe essere da queste parti, vabbè, poi andiamo allora a cercare il low, e vediamo dove si trova, ovviamente più è in alto l'ai, e meglio è, perché poi, ripeto, lo step successivo è andare a trovare il low, noi teoricamente, anche se chiudessimo adesso la candela qui, ci sarebbe già volendo il setup long, per i più aggressivi, perché, perché abbiamo fatto un low reclaim, e volendo, visto che il macro, tutto il complesso, è bullish, dai time frame più elevati, noi potremmo dire, bene, low reclaim, entriamo proprio qua, papam, stop loss, sotto i minimi, e il setup è servito, molto rischioso, perché, è appena, siamo appena agli albori della domanda, non c'è struttura definita, non c'è nulla di nulla, e quindi, dobbiamo un po' vedere esattamente, dove, come ci andiamo a strutturare, poi, se al contrario, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, bene, allora è più facile andare a costruire la posizione long, perché, andiamo a formare una struttura, che può essere di range, e quindi andiamo poi ad aspettare, la flessione successiva, individuando quelle che sono le sacche di domanda principali, dettate dalla dinamica, poi del movimento che facciamo, perché, adesso non so se andremo direttamente a colpire i massimi, in tal caso, utilizzeremo i livelli che già conosciamo, quindi quelli che vedete già segnati sul grafico, altrimenti, se, che ne so, facciamo una candela verde, poi lateralizziamo un po', poi ritorniamo a rialzo, formiamo nuovi livelli, che poi prenderanno il sopravvento su quelli vecchi, ovviamente, il nuovo vince sempre sul vecchio, perché ha maggior validità, la cosa importante è identificare la struttura, quindi, trovare l'high, trovare il low, quindi anche se siamo qui, poi andiamo a cercare il low, bene, facciamo un higher low, e torniamo a rialzo, benissimo, perché, poi c'è più probabilità di fare una struttura di bottom, pam, vedete, è veramente, veramente facile fare una cosa del genere, e quindi, è quello che dobbiamo andare a individuare, aggressivamente, si può anticipare la struttura di bottom, altrimenti, andiamo ad aspettare che si formi, oppure, se andiamo direttamente a range high, poi alla flessione, abbiamo la possibilità, di andare ad agire, proprio sui setup da range, abbiamo visto che siamo in range, bene, andiamo ancora ad agire, poi sul prossimo, attacco, nella zona middle, e low, in base poi, alle dinamiche del prezzo, sta di fatto che tutto questo, per ora, non mina il quadro generale, non mina il macro, certo, allora, adesso qui abbiamo la nostra prima resistenza, abbiamo detto 55.600, se già da qui ci respinge, e ci tira un dampone, allora un po' di rischio c'è, però, ricordiamoci, la reazione della domanda, qua sotto, quindi, anche se adesso ritracciamo un po', non vuol dire che c'è da fare, da aprire lo short, perché, ripeto, il quadro generale, è questo, è un quadro di lateralità, al momento, con un po' di particolarità, tutte sue, ma fin tanto, che ci muoviamo qua, all'interno di questo, di questa area, siamo in un gigantesco range, se lo perdiamo, son cavoli amari, abbiamo un costrutto di top gigantesco, che c'è veramente da iniziare a preoccuparsi, ma finché non lo violiamo, ci si può giocare al suo interno, ovviamente, con un bias bullish, dato dal fatto che, il, i time frame più elevati, sono decisamente rialzisti, ok? Questa è un po' la situazione, per chi invece cerca, a tutti i costi, non lo so, la copertura, il take profit, il primo setup short, che ci potrebbe essere, potrebbe essere, o, ripeto, l'assorbimento, tac, così, e richiudiamo qua sotto, non è proprio il massimo, oppure domani, già rientriamo qua dentro, e non è proprio il massimo, perché, questo colpo di reni, viene vanificato subito, altrimenti la perdita, dei 40k, allora poi, il primo retest, la prima flessione a rialzo, si va a cercare lo short, perché qua, è un costrutto di top, che si è formato, ed è stato anche ufficializzato, questo è bitcoin, nei suoi scenari, bullish e bearish, però, io sono molto positivo, in questo periodo, mi sta piacendo il mercato, perché, guardate qui, la capitalizzazione totale, la capitalizzazione totale, non ha neanche fatto, vedete, né un lower low, né un niente, cioè, ha fatto, vedete, low, higher low, higher low, di fatto, siamo così, e qua, c'è una sorta di canale ascendente, in essere, cioè, noi ci stiamo muovendo così, sulla capitalizzazione totale, ed è questo, che mi rende bullish, cioè, nonostante bitcoin, abbia un po' patito, ultimamente, il mercato cresce, cioè, guardate, questa è crescita, questo, è un trend crescente, che non accenna, neanche un po' a fermarsi, a frenare, non è neanche laterale, è proprio un uptrend, e quindi, non riesco a essere bearish, in una situazione del genere, mi dispiace, le altcoin, ovviamente, stanno galoppando, in continuazione, la dominance, non mostra freni, e il downtrend, appunto, è galoppante, e direi, abbastanza, sono sparite le medie mobili, mannaggia, vabbè, il downtrend è galoppante, non ci vogliono le medie mobili, per capirlo, oserei dire, quindi siamo ancora in piena alt season, ci sta andare a cercare, quindi setup, Ethereum, Ethereum, nel frattempo, guardate come si è comportato bene, con il retest, è da manuale, Ethereum, ha fatto un retest, nella nostra area, che avevamo identificato, ha fatto un altro, un'altra botta rialzista, i volumi sono un po' a terra, attenzione, perché, adesso potrebbe fare un po' qualsiasi cosa, ora come ora, però, mi sembra che, abbia intenzione, di uscire, da questo range, dalla sua comfort zone, quindi, il target, nel caso di prossima leg up, è più o meno, questo, 0055, perché, arriva dal passato, guardate, il settimanale di Ethereum, tra l'altro, incredibile, arriva dal passato, vedete da qua, ok, quindi, il settimanale, conferma tutto quanto, visto che ci capitiamo, guardate, pool di domanda, chiusura sopra, quindi, questo è di nuovo un entry, anche adesso, rimane un entry valido, niente da dire, su Ethereum, benissimo amici, questo è quanto, abbiamo superato l'ora, addirittura, vi ho fatti un po' scappare, con le mie analisi, ma, va bene, va bene così, siamo sul pezzo, e, io a sto punto, vi saluto, perché, vedo che, ce la siamo portata, un po' lunga, quindi, tenetevi le domande, per mercoledì, vediamo, se magari, facciamo anche il giveaway, dei promo code, per chi non lo sapesse, su PrimeXBT, vi regalo, tre promo code, da 0.0035 bitcoin, tradabili, quindi, li potete usare, per aprire posizioni, e tenervi profitti, io ringrazio, nel frattempo, chi, si è abbonato, ricordo che, se avete Amazon Prime, potete abbonarvi gratuitamente, ormai, faccio sempre, la mia filastrochina, a fine live, e ringrazio di cuore, chi decide di farlo, perché, per voi, è a costo zero, e per me, ovviamente, è una piccola donazione, che apprezzo, veramente, veramente tanto, credetemi, e, grazie anche, a chi decide, di utilizzare i miei referral link, che ogni tanto, vi scillo a destra e a sinistra, ma, mai scam, vi faccio un carissimo saluto, vi ringrazio di nuovo, per avermi seguito, carico adesso, la differita sul tubo, e noi ci vediamo, questo mercoledì, buona serata a tutti, e alla prossima.